Siamo qui con Ilaria Bonaccorsi, candidata al Parlamento Europeo per il PD PSE. Ilaria, hai diritto all'Udifo Europe. Perché hai diritto all'Udifo Europe? Ti abbiamo fatto subito, convinti, insieme a Giuseppe Civati, perché proponete un straordinario intervisto di un piano europeo per sviluppo sostenibile all'occupazione. Alcune proposte sono particolarmente interessanti per esabilizzare, subito come la Topping Tax, la Carbon Tax, che non ci sembrava fondamentale nell'opportunità. Perché è una diversa, c'è una costruzione, c'è una costruzione, c'è una costruzione, c'è una costruzione, c'è una costruzione. Ci darei una mano a raccogliere le firme? Assolutamente sì, anzi, l'appello è andate, firmate sul sito. nudif4euro.e Grazie.